Che lavoro fai? L'imprenditore agricolo. Dove? A Sicilì di Moligerati, in provincia di Salerno. Che cosa produci? Olio extravergine di oliva, maschio dopo Cilento e alcune ortive. A che ora cominci a lavorare? Alle 7 al mattino. Qual è la prima cosa che fai nella giornata di lavoro? Leggo le mail. E l'ultima? Leggo ancora le mail. Qual è la parte più dura del tuo lavoro? Quando un lavoro piace e appassiona non c'è una parte dura. Che cosa cambieresti del tuo lavoro? Nulla. Quanto è grande in ettari la tua azienda? Circa 50, ma ho libertati solo 30. Quante persone ci lavorano? Io e il cimico è un laboratorio stagionale. La tua produzione è rivolta al mercato locale, nazionale o internazionale? Nazionale è una piccola parte del mercato internazionale. Fai vendita diretta? Sì, certo. Quanto di quello che mangi è prodotto da te? Tanto, circa il 70%. Che cosa diresti a chi consuma i tuoi prodotti? Buon appetito. Come conservare i tuoi prodotti? Non conservateli, consumateli. Mi racconti un aneddoto legato al tuo lavoro? La cosa più bella è l'emozione che suscita un nuovo olio. Ogni anno quando si produce un olio ci sono delle emozioni sensoriali molto belle da vivere. Come vedi l'agricoltura del domani? Intelligente. Qual è il contributo che con la tua azienda dai alla società? Un contributo sensoriale, un'emozione. Che cos'è per te l'agricoltura multifunzionale? L'agricoltura multifunzionale deve avere una funzione sociale, una funzione produttiva e una funzione di reddito per chi la fa. Che cos'è per te l'agricoltura multifunzionale deve avere una funzione di reddito per chi la fa.